Ciao Village, siamo dolici di essere qui un'altra volta, è un posto spettacolare. Benissimo Patagoni, si mangia benissimo, è sempre una bellissima atmosfera. Grazie a me e a Slu e a Annelise per questo invito e a Gigi Lissimo Direttore per questo prestigiosissimo invito. Siamo dolici di essere qui un'altra volta, vive la musica, vive Village! Ciao 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 Village!